Benvenuti in questo nuovo tutorial di Musicis, questa volta cambieremo le corde a una chitarra elettrica, in questo caso una chitarra elettrica con ponte fisso e le meccaniche tre per lato. Abbiamo le corde di ricambio, l'avvolgicorde e le tronchesine. Allentiamo la prima corda che è il mi basso, cambiamo sempre le corde una alla volta, quindi togliamo il mi basso dalla meccanica, sfiliamo la corda, prendiamo la corda da sostituire, la inseriamo nella parte terminale del ponte, infiliamo la corda nel foro della meccanica e la stendiamo completamente. La teniamo bloccata al primo tasto e alziamo la corda all'altezza più o meno dei pick up per uno spazio di circa una decina, dodici centimetri più o meno. Sarà la parte che andrà avvolta alla meccanica. Prendiamo l'avvolgicorde e tenendo la corda abbassata cominciamo a avvolgere per fare in modo che le spire vengano avvolte alla meccanica una sotto l'altra e non facendole sovrapporre. Adesso continuiamo la stessa operazione per tutte le altre corde, sempre una alla volta. dobbiamo sempre fare attenzione al fatto del posizionamento della corda, cioè la corda quando l'abbiamo avvolta sulla meccanica dopo deve essere posizionata sopra la selletta. Una volta montate tutte le corde possiamo tagliare la parte in eccesso, per tagliarla utilizzeremo queste tronchesine qui. Grazie